ciao a tutti persone speciali ho deciso che inizierò il mio blog delle vacanze e tutti i blog che farò un futuro chiamando persone speciali perché ognuno secondo me è unico a un dono particolare e arricchisce gli altri quindi buongiorno persone speciali ecco qui che mi accingo a farvi vedere un primo pezzetto dell'appartamento che abbiamo preso in affitto per questa settimana a pescara qui c'è il cucinino ma in verità noi non lo utilizziamo in verità facciamo solo colazione qui è come se praticamente fosse un b&b soltanto che la colazione ce la compriamo noi c'è il frigo dove teniamo la nostra acqua per bere la notte eccolo qui e niente poi c'è qui un marito abbastanza abbattuto perché è circa due settimane che dice ma vuoi vedere che ha fatto tanto caldo e quando vado in vacanza piove oggi siamo arrivati e indovinate c'è l'acquazzone quindi e la sei chiamata non vuole commentare vabbè vi farò vedere gli altri pezzetti della dell'appartamento eccoci qui questo è il letto in verità è un appartamento manzardato costituito solo da un letto un cucinino qui abbiamo la poltroncina lo specchio qui abbiamo poggiato gli impermeabili e qui c'è un bellissimo poster io non so se a casa dei vostri genitori se siete della mia stessa età o un po più grandi vi è capitato di vedere questi poster cinematografici o poster dedicati ad artisti contemporanei io per esempio avevo la alimpicca molto molto bella come poster art era un artista veramente di grido e ne parlerò a breve perché riprenderò la mia rubrica questi maledetti artisti andiamo a vedere invece il qui c'è un bellissimo armadio con due cuscini in aggiunta se abbiamo freddo le coperte ma qui possiamo appendere tutti i nostri vestiti porta scorrevole e ora accendiamo le luci perché andiamo in bagno anche qui posso tranquillamente toccare infatti poi mi sistemerò qui c'è una bellissima docetta qui come in un albergo ci riforniscono di tutto quello che ci serve varie appunto tovaglie ma ripeto noi passeremo al supermercato perché dobbiamo prendere delle cose e qui c'è il bagno doccia nel dispenser appunto specifico qui ci è stata regalata una bellissima saponetta per le mani ma io ho visto la situazione trovo più genico appunto il sapone liquido fatemi sapere cosa ne pensate questo è un acquisto che ho fatto quest'estate mai acquisto è stato più utile perché questo è il beauty case da viaggio ci ho messo spazzola dentitricio e spazzolino serviette igieniche perché in estate io le uso come il pane forse ancora di più in inverno campioncini che mi hanno regalato perché ho preso delle mini sites di cosmesi della mac proprio perché volevo proprio un detergente viso vediamo dove è finito qui abbiamo il nostro oggetto eccolo detergente viso struccante e fix plus non so a che gusto è però è uscito fuori questo setting spray e li ho voluti comprare da viaggio proprio per facilitarmi le cose e poi dall'altra parte appunto qui c'è la skin care shampoo tutto quello che ci serve la mia base trucco che è di solito per l'appunto il mio mio spf 50 per il viso e questo meraviglioso siero di kiko profumo che il mio preferito del periodo vediamo dove sono finiti tappi insomma non perdo tempo a farvi vedere cosa c'ho dentro però insomma avete intuito come organizzato appunto la mia il mio beauty case da viaggio qui la pochette makeup come vedete piccola ha portato il minimo indispensabile e le cosiddette travel sites come ho fatto anche per la skin care e la beauty routine insomma mi vado a preparare eccomi qui makeup terminato utilizzato la mini star di natasha denona ho finalmente terminato quel colore di cui vi ho sempre parlato da chi segue il mio canale fin dall'inizio che non mi era per niente piaciuto della mini star volevo imitare il blue brown ma veniva una specie di grigio smortizzo insomma avevo anche probabilmente alterato io perché l'avevo bagnato però guardate come col primer di nix è venuto bello accesso è un trucco molto comunque semplice qui sulle labbra una delle nuove tinte di happy beard e double touch kiko e quella make a toast questo bellissimo nude tostato caldo ma non troppo sul viso ho i correttori di kiko uno un po più aranciato uno della mia tonalità normale e devo dire che ha coperto molto bene insomma le imperfezioni dando appunto radiosità al mio incarnato in particolare quello radiance mi è piaciuto molto perché devo dire l'ho trovato appunto molto molto efficace inoltre fissato poi con l'altro della collezione charming escape ottimo sul viso ho utilizzato il duo blush illuminante di natasha denona questo mi ha fatto impazzire da questa ancora di più sensazione di radiosità che quest'estate sta andando tanto tanto di moda profumo messo e io sono pronta a fare le commissioni a incontrare i miei carissimi amici e intanto vi mando un saluto e vi auguro di starmi sempre sempre bene